Buonasera e benvenuti al TG7 Basilicata. Scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata stamani alle ore 7.24 in provincia di Matera, con un epicentro localizzato nei pressi di Accettura ad una profondità di ben 28 chilometri. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. Accusate di truffa via web, 7 persone sono state denunciate dai carabinieri che hanno svolto indagini dopo le denunce presentate dai cittadini residenti nella provincia di Potenza. Le persone truffate hanno versato online cifre che vanno da 150 euro fino a 500 euro in cambio di merce mai consegnata. I vigili del fuoco ancora una volta hanno operato per spegnere diversi incendi, il primo intorno alle ore 23 nel comune di Melfi, poi alle ore 23.40 nel comune di Ripacandile. Intorno alle ore 7 del mattino sono stati dirottati di nuovo sull'incendio Pineta di ieri nei pressi del viadotto Chiatamone per spegnere piccoli focolai ripresi durante la notte. In contrazione rispetto al 2019 la produzione italiana di frumento tenero di quest'anno è assolutamente calata. Potrebbe arrivare a registrare una flessione pensate superiori al 5% rispetto ai precedenti volumi produttivi. In Basilicata l'attività molitoria è finalizzata in maniera prevalente alla lavorazione del grano duro e il seminativo largamente più coltivato e utilizzato, cui si contrappongono poche alternative negli avvicendamenti culturali. La lavorazione avviene presso numerosi mulini artigianali distribuiti su tutto il territorio regionale, cui si affiancano tre centri di stoccaggio. L'allarme di Talmopa fa seguito a quello lanciato da Leonardo Moscaritolo, presidente IG e della CIA Agricoltori. Non sono pochi i panifici che continuano ad usare grano di importazione. Da diversi anni, dice Moscaritolo, assistiamo al continuo arrivare nei porti italiani di navi che trasportano il grano estero, col chiaro intento di far scendere il prezzo del grano italiano. Tutto questo proprio in un momento delicato e di crisi in cui dovremmo invece fare squadre e dare valore alle nostre produzioni. Andiamo all'ultima notizia. Nella giornata di domenica 2 agosto, presso la tenuta Sabini di Altamura, si è svolta la prima tappa del campionato interregionale. Endurance Pony Puglia. Grandi soddisfazioni per gli atleti della scuderia Vento Barocco di Matera, seguiti dal tecnico Livia Bruno. Difatti sono proprio tre gli atleti del team materano che hanno conquistato il podio nella gara di avviamento di 3 chilometri. Su 13 partecipanti al primo posto si è classificata la giovanissima Ginevra Daraia al suo esordio in questa disciplina col punteggio di 63.1. Davvero un ottimo risultato. A completare il prezioso Bottino, oltre a Giulia Chiarenza, ecco c'è stato un terzo classificato, Simone Di Tinco. E poi c'è da sottolineare il quinto, sesto e settimo, ottavo e non opposto, che sono ovviamente ecco a completamento del tutto e sono sicuramente da segnalare. Io come ogni sera vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani.